Una serata come questa ci ha testimoniato che scienza e fede dialogano. Sì, scienza e fede sono complementari fra di loro e il ruolo della specula è proprio questo, mostrare come scienza e fede possono convivere insieme. Ci offrano due sguardi sull'universo, sulla realtà, due sguardi differenti, ma che possiamo provare a conciliare, a tenere insieme. La tua vita di sacerdote in qualche modo è arricchita dallo studio, dalla scienza. In che modo? Guardare il cielo, guardare l'universo arricchisce la nostra fede. L'arricchisce perché tiene vivo il senso dello stupore in noi, vedere la bellezza e la grandezza dell'universo. Per chi crede è anche cogliere e vedere la bellezza e la grandezza di Dio. Ed è anche una scuola di umiltà, possiamo dire. Vedere questa immensità dello spazio forse ci ridimensiona anche quando aumentiamo troppo la nostra importanza e ci riporta a sentirci figli, creature, amati. Il titolo di questa sera era tratto da un verso di Dante del Paradiso, della Divina Commedia, L'amor che muove il sole e le altre stelle. In fondo, dentro tutto questo grande universo così immenso, c'è anche un ordine che ci permette di dire che c'è un sogno, che tutto sia in qualche modo vivibile. Guardare l'universo, sì, ci continua a mantenere in ricerca, che aiuta a continuare a fare nascere in noi delle domande. Poi sta a ciascuno di noi trovare delle risposte in questo, però se uno onestamente si mette davanti alla grandezza, alla bellezza dell'universo, non può non porsi queste domande. Vedete quanti dettagli...